Vacanze musicali a Urbino, secondo appuntamento dopo l'avvio nel 2009, quindi continua questa esperienza di residenzialità per delle iniziative culturali che in questo caso dedicate alla musica, ma che come abbiamo già visto in altre occasioni per corsi dedicati all'arte, corsi dedicati alla grafica, stanno attirando l'attenzione di un pubblico nazionale e internazionale per trascorrere più giorni in questa città dedicandosi ad attività. Lucia Pretelli, Assessore Comunale Turismo. Una opportunità importante per la nostra città. La residenzialità mirata con l'obiettivo di specializzarsi, di ampliare le conoscenze è fondamentale. Prima di tutto perché la nostra vocazione è proprio quella sempre di offrire dei servizi culturali e naturalmente la presenza qui a Urbino naturalmente determina anche un beneficio a livello turistico. Le persone che si fermano qui, che si fermano come nel caso di vacanze musicali, otto giorni a Urbino, qui dormono, qui si fermano per trascorrere la giornata, sono un'opportunità importante per l'economia della nostra città. Alla stessa maniera come i corsi di musica antica o i corsi di grafica e di incisione che durante l'estate, o di lingua italiana, che durante l'estate si svolgono nella nostra città. È importante appunto avere questi ospiti che scelgono la nostra città per specializzarsi, per ampliare le loro conoscenze, per confermare che Urbino ha questa grande vocazione culturale, ma anche di turismo culturale. Quindi le vacanze musicali che cominciano sabato 28 sono un'ulteriore opportunità. Oltre ai corsi che vengono effettuati quindi nella nostra città, l'associazione Musa, che si occupa dell'organizzazione, offre alla città una serie di concerti a ingresso libero, che possono essere fruiti da tutti gli urbinati, da tutte le persone che passano qui un po' di tempo. Concerti di livello importante che confermano in qualche maniera la stagione musicale della nostra città.